ciao come sei bella chanel chanel ha un anno e dolcissima pisa 15 kg e 2 taglia media contenuta vuol dire non è molto grande non molto tra poco sterilizzata vaccinata bellissima una signorina lady eccola qua la piccola mia tesoro vuoi vedere come sei bella vuoi vedere come sei bella come è bella eccola qua com'è bella chanel eccola sopra il lettino come una lady eccola qua amore non dà problemi non abbaia sporca fuori casa eccola qua il telefono cucu cucu ciao fai ciao chanel ciao 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 ciao